Tutto comincia da un mattoncino, il mattoncino incontra altri mattoncini e assieme si combinano, non accanto all'altro, le formano le cose. Chissà se anche la vita di una persona è fatta in questo modo una serie di diversi mattoncini che messi assieme compongono una forma, uno schermo ordinato. 1918, St. Michael's. A noi discendenti di gotanta grandezza va la responsabilità di preservare la tradizione. La compostezza, la promi, il protocollo sono nostri amici. Al dilagare delle passioni opponiamo un fermo contegno senza il quale sarebbe il frioffo della barbarie. prof, ma lei lo sa che io, lei, questa scuola è tutta l'inditerra, siamo tutti composti da mattoncini. In fondo siamo solo un mattoncino nel muro. Adesso i palmi, tu ritorno. La generità slegolata e subordinata di Alan irrita profondamente i professori tradizionalisti. da domani faccio una scuola serie. Devo partire adesso. La generità slegolata e subordinata di Alan irrita profondamente i professori tradizionalisti. La generità slegolata e subordinata di Alan irrita profondamente i professori tradizionalisti. Grazie a tutti.